Oh ma che c***o fai? Oh ma che c***o fai? E' una piazza che raccoglie tante esperienze, è una piazza che raccoglie tanti pezzi della società e che non può essere un'ascoltata e soprattutto non può essere repressa. Mai si è messo in discussione il modello dell'aggernanza a scuola lavoro per quello che ho! Io ho sentito molta rabbia, credo come tutti gli studenti e le studentesse. Mentre il dibattito pubblico si parla solo di chi sarà il prossimo presidente della Repubblica, mentre c'è chi pensa solo a capire come sfruttare meglio i propri lavoratori, come aumentare al messimo i propri profitti, abbiamo portato ancora una volta in piazza il paese reale. quello che tutta la mattina si sveglia, si va a stipare dentro i mezzi di trasporto per andare a lavorare quando un lavoro ce l'ha o per andare a scuola. E si cede anche che chi scende in piazza per ricordare Lorenzo ancora una volta per dire no a questo modello di scuola azienda viene caricato, come è successo qui a Napoli sotto l'Unfidustria, come è successo a Roma e come è successo a Torino. Oggi noi qui in piazza siamo scesi perché nella nostra lotta noi ci crediamo, perché Lorenzo è morto, ma continua a vivere le anime di chi lotta. Lorenzo è vivo e la lotta è piena a noi, le nostre idee non moriranno mai.